La nostra percezione è quella che ci vuole il pugno di ferro, niente guanti di velluto, bisogna fare pulizia, cioè nel senso che chi è qui per sondolare e fare il delinquente deve essere assolutamente punito. Chiede il pugno di ferro il presidente del Veneto, Luca Zaia. La cronaca, con la violenta aggressione di un anziano a cittagiardino, rimette tra i primi punti dell'agenda politica il problema legato alla sicurezza. Per Zaia è necessaria una revisione delle norme. Ci vuole un'antiinterpretazione del codice penale rispetto a questi reati che qualcuno purtroppo ormai in Parlamento definisce reati minori. Per noi non sono reati minori. Uno è delinquente, punto e basta. Intanto, da Roma, sull'onda emotiva della tragedia di Lampedusa, si chiede la modifica della legge Bossifini. Paventa questa soluzione, ma non si è capito quale nesso ci sia tra l'affondamento del barcone che si incendia in mare e che ignobilmente, vergognosamente, non viene a soccorso, stando ai racconti da chi ha transitato in quelle zone, in quegli attimi, con la Bossifini. Se qualcuno ce lo spiega, per noi la Bossifini oggi è un elemento chiaro, rigoroso rispetto all'immigrazione, non è più rigoroso di molte altre comunità che prendiamo come esempio la Germania, gli Stati Uniti o altre realtà internazionali.